Assessore di Buonaventura, manutenzione, decoro urbano, insomma sono tante le deleghe del suo assessorato, tutte impegnative e tutte prioritarie tra l'altro. Diciamo il problema, speriamo che 2019 ci possa riservare, noi possiamo riservare maggiore attenzione per il problema della manutenzione stradale perché purtroppo la situazione è veramente drammatica, buche dappertutto, situazioni che richiedono interventi necessari di mandi nuovi. Sicuramente daremo un segnale a primavera, metteremo in campo somme importanti per rifare tratti di asfalto, però sappiamo benissimo che saranno insufficienti e quindi ci stiamo attrezzando per cercare di effettuare sistemazione delle buche in maniera più professionale, quindi con attrezzature. Ci sono difficoltà perché poi bisogna avere anche operai a disposizione, purtroppo il numero di operai abili a fare certi tipi di lavoro sono ridotti all'omicino. Però l'impegno è questo, l'impegno prioritario dell'amministrazione, speriamo anche di poter migliorare la segnaletica sul territorio perché purtroppo è carente, un maggior controllo del territorio e poi il decoro urbano, dobbiamo cominciare a dare maggiore attenzione alle aree verdi sperando di poter investire maggiori risorse e poi anche di garantire maggiori controlli e magari procedere all'installazione di videosorveglianza perché purtroppo ce n'è bisogno, per colpa di pochi poi assistiamo episodi inaccettabili, però quindi noi non dobbiamo arrenderci, dobbiamo immaginare un futuro migliore per questa città. Quindi l'impegno del primis del sindaco e di tutta l'amministrazione, di tutti gli assessori, di tutti i consiglieri maggiori, anzi è di cercare di migliorare il decoro di questa città e anche la manutenzione stradale che è il punto principale da affrontare. Altro tema a lei piuttosto caro è quello dei rifiuti, un'altra situazione che può essere segnale di inciviltà ma che in realtà deve essere gestita in un'altra maniera. Beh sì, è un problema che è sotto gli occhi di tutti, c'è un abbandono sconsiderato dei rifiuti, quindi quando parliamo di decoro parliamo anche di non abbandono dei rifiuti. L'amministrazione ha messo in campo una convenzione con le guardie ambientali, saranno installate fototrappole in diverse parti del territorio, ci saranno molte pesantissime, quindi tolleranza a zero perché comunque c'è un abbandono sconsiderato in tutto il territorio comunale, quindi ci attiveremo proprio per dare maggiore controllo, inizieremo una campagna pubblicitaria, verranno messi i manifesti proprio a titolo informativo sul territorio. Quindi noi cosa chiediamo ai cittadini? I cittadini chiediamo di non fare questo gesto di abbandonare i rifiuti, chiediamo ai cittadini di vigilare loro stessi, di segnalarci chi abbandona i rifiuti, magari di fare foto e quant'altro e poi di inviarcene, di segnalarci questi tipi di comportamenti. Speriamo, invitiamo tutti a volere bene al proprio territorio. Poi ci attiveremo nella primavera con i comitati di quartiere, insieme per fare magari giornate di puliamo il mondo, puliamo il nostro territorio, per cercare di togliere tutti quei rifiuti che sono abbandonati sulle vie delle frazioni soprattutto.